Si chiamerà Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e questo infatti il nome proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per la fusione degli enti camerali di L'Aquila e Teramo. L'intesa, raggiunta dai consigli camerali delle due province, anticipa quello che prevede un'apposita riforma, cioè la riduzione del numero delle camere di commercio italiane da 105 a 60. Il nuovo ente camerale manterrà la presenza sul territorio nelle due sedi dei rispettivi capoluoghi di L'Aquila, che sarà anche sede legale, e di Teramo. La costituenda Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia comprenderà 155 comuni con una popolazione complessiva di 618.000 abitanti, 79.474 imprese registrate che producono annualmente circa 9 miliardi di valore aggiunto e 1,7 miliardi di export. Sulla base dei dati di bilancio dei due enti, il patrimonio della Camera di Commercio del Gran Sasso ammonterà ad oltre 17 milioni di euro, l'attivo circolante a 24, di cui 17 di disponibilità liquide. La dotazione organica della nuova Camera di Commercio sarà di 80 persone, visto che nel 2016 i due enti hanno avviato una razionalizzazione che ha determinato una riduzione di 10 unità lavorative con un risparmio di 468 mila euro. L'opportunità di procedere alla creazione di un nuovo ente, sostiene Gloriano Lanciotti, presidente della Camera di Commercio di Teramo, trova fondamento non solo nell'evoluzione normativa ma anche nella piena condivisione del percorso avviato dalle due Camere con sorelle, mentre per Lorenzo Santilli, presidente della Camera di Commercio dell'Aquila, la nascita di questo nuovo ente è nell'interesse esclusivo del sistema delle imprese rispetto al quale sarà possibile destinare importanti risorse per interventi di promozione economica sul territorio.